Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sei arrivato a Melegnano. No, no, se guardi bene stacco Roberto. Prendilo da dietro Marzò, prendilo da dietro Marzò, ti prego! Aiuto! Marzò è arrivato! Puttana! Sì, dai, abbiamo vinto in una corsa! Dai! Dai, in una corsa abbiamo vinto, lo metto sul curriculum, dai! Chi ha usato colpirmi? Tania Cagnotto, per il tuffo che può superare Shang Lin, cinese! Tania Cagnotto! Ne fa due! 98.5 è oro! È oro! Vi prego, dimmi che si può muovere. Ah, ok. Meno male, domani lo provo. Non streammo! Martedì! Non streammo! Mercoledì! Potrei streamare! Non streammo, my man! Però devo stream a Mesa Air 9, perché esce... Sì! Air 9 esce, esce... Dlc, devo stallone mixtape, con una strofa di ZV Jackson e Lolo Lacostre. Ciccia, Tommaso il sito e l'auricia del mar... Ma che è? Mi ricordo... Ma che è? Ma che è? Ma il fuorionda di un porno, sembra! Ma lei è pazzi o porco! Questa che... Ma scusa, ma questa sembrava la pischella di quello che cucina! Dico straniero... Cioè, ragazzi, i trucchetti li sono tutti! Che trucchi sono? Eh... I trucchetti! Toa... A... 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 Che scrivo? Gli ho fatto un audio? M Burada non mi tocca. No ma mi isalovate le mani. No, io li mando sempre a Manusio quando sto male. SA Sai che mi mandate le foto della merda! è il cuore della merda a Manuzio gli mando gli audio al K gli mando le foto infatti c'è pure la foto desta smierata però l'ho mandata al K ce la devo girare al K genio assoluto a Marco ti hai mandato uno a doppio a Marco gira ti porco dio dai bianco dai grida madonna che strano giocare da console puttana non me l'aspettavo no Marzò dovresti vedere la clip perché io questo me lo so fatto e l'ho colpito sette volte lui correva tipo poi c'è sta si fredi si grazie dio lo farò proprio l'ultimo è Mughini allora regà non bisogna sprecare uno ok ok 11 kg ho fatto rispetto alle 20 di prima mannaccia la madonna Oh guarda che l'ho fatto Tanti auguri a te Come si contente Non si può spiegare Mundo emozionale Ha scelto di sì Di dominatore Vabbè ma Nati se gli devi portare al video No Pugno degli Dite la forza di perigliere Ha toccato un ramo di un albero Ha toccato il ramo di un albero Ha toccato il ramo di un albero È scivolato Ramo di un albero Un ramo di un albero Però è vero Però puoi entrare dentro al legno Per aggrapparci Ma chi è tra l'altro scusate Fazzone porco di un Come si usa il porco di un Ma forco di un Ma tira via la Ma che fai È l'edria Di pasta al pomodoro Fammi sapere caro Sofiiiiaaaaaa Sofiiiiaaaaaa Sofiiiaaa Lo foto È un ruolo di ruolo Buon confio Non ho mai sentito un ruolo parlare così Il masseo di sotto d'un blu Lo fa fuori Zazzò ma che cazzo stai combinando con l'Urus Chi è questo? Quello te lo fai easy Ufficio tu non sai con chi stai a parlare Stiamo perso Andiamo per il compor lato Non posso vincere No no Non sei governo Buongiorno Spermocorce Che cazzo dici Sei scemo sei Merda del gioco del cazzo Porco dio Non arrivo Peride Che cazzo Che stress Porco dio Che stress E' un'arriva Manux e Marza Vabbè non arriva Non vedevo più il gatto Sì però addio Allora teoricamente Il cooldown che c'ha da adesso Gli puoi da gas senza problemi Perché te ne fa tutte le piastrelle Vabbè ma no Non te sente più ormai E dove sei nato? Ma sono nato a figline incisa valdano Cioè il tempo che ho deciso Vabbè a questo gli dici in provincia Mamma mia la follia ti è Strano Ma poi sono più lunghe i dati Ma sono stranissime Non avevo mai notato che erano così basse Rentini ha sparso la voce Dai E' proprio carino Eeeh Ma che devi parlare però in questo modo Cioè se no mandi avanti solo dei cliché stupidi Non so me ne mandi avanti i cliché Allora al pischetto